amici di battista 70 phone oggi vi presento una cover molto fashion per honor 8 praticamente da ultra slim con il bordo simil metallo e plastica comunque quindi non preoccupatevi che non si graffia nella colorazione in questo caso argento ma abbiamo che la colorazione più scura che trovate nel nostro shop è una cover molto flessibile dallo spessore penso che sia una 06 per cui non dovrebbe neanche ingiallirsi col tempo dato che lo spessore abbastanza importante dentro abbiamo una parte zigrinata di modo che non si vanno a creare delle inestetiche bolle andiamo ad infilarla e vediamo come 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 devo dire che gli conferisce un aspetto ancora più fashion e più bello di quello che è come potete vedere comunque il grip è notevole ripeto effetto metallo ma non è metallo potete vedere i tasti sono coperti sopra i fori sono ben centrati da questo lato ovviamente l'ingresso per la nano sim viene coperto sotto come vedete lo speaker è sagomato alla perfezione idem usb type c e in jack da 3.5 la cam risulta essere ben coperta con tutti i fori ben centrati come potete vedere le due doppia cam qui l'autofocus e qui il flash sono non ci sono problemi non ci sono riflessi non c'è nient'altro e anche il fingerprint è ben accessibile sul frontale rimane un minimo di spessore che ci consente di appoggiarlo a pancia in giù senza graffiarlo potete vedere che comunque la bellezza del terminale rimane alterata c'è solo questo effetto leggermente più fashion è comunque molto protettiva e ripeto da un ottimo grip non ha nessun problema con la pellicola vetro che abbiamo installato che vendiamo nel nostro shop per cui la potete utilizzare tranquillamente la pellicola vetro non salta anche perché è fatta in modo di lasciare un minimo di spessore proprio per consentire l'utilizzo delle cover ok se volete la trovate nel nostro shop con questo concluso un da loris alias battista 70 per battista 70 phone